Gira, 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 gira E gira tutto intorno all'azienda Dove siamo? Io sponsorizzo Pornhub Fai vedere Non è che cazzo sei tu dentro questo zaino Vabbè ma l'ho preso apposta L'ho portato apposta Ah ma stai facendo il video? Sì E' scritto 2 minuti e 50 Ciao No eh Sì cosa stiamo aspettiamo? Dietri Che è? Che è? Eeeh anche di nuovo Non stai a vedere Allora O è Tosca o è la Eh? Vado a vedere Siete dei pezzi Che è successo? Che è successo? Che è successo? a a a a ciao dove io direi fai facciamo per caristano si non andiamo a molti resti facciamo ancora un po' più di curva e a 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 Ficca, ma ce ne facci? Ciao Abbiamo perso i due E' andato jumpy Ma sei un pazzo, cosa è successo? Ah, guarda Non hanno capito, patente Non hanno capito No, guarda Dove è? Eccolo Guarda che scende Guarda che scende Guarda che scende E' già finita la registrazione Ma ciao Ehi, guarda Guarda Questo bel ragazzo Guardatelo Guarda 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 Grazie a tutti